Ciao a tutti! Siamo in Toscana! Mobilia Megastore ti regala fino a tre giorni di vacanza e scegli tu dove andare. Devi solo acquistare una delle tante soluzioni in promozione. E scoprite il nuovo reparto dedicato a lessi e trasformabili. O streghetta! Siamo a Venezia! E per i pagamenti c'è sempre tempo! Fino a 48 mesi a tasso zero o 60 mesi con prima rata a febbraio. Scegliere una vacanza di tre giorni con un fantattico pacchetto. Emozione! Ho trolley roncato, ho teli spiaggia! Adesso siamo in Sardegna e ora vado a rinfrescarmi! Godi tu in fresco da Mobilia Megastore a Caserta Sud e a Salerno Est.